Quelli che privatizzano la salvezza, chiudendosi in élite, che disprezzano gli altri, non seguono la via nuova inaugurata da Gesù. Lo ha detto Papa Francesco nell'Omelia della Messa del Mattino, presieduta a Casa Santa Marta, commentando il brano della lettera agli ebrei proposto dalla liturgia. Ci sono condotte modelli sbagliati di vita cristiana, ha spiegato, e Gesù dà i criteri per non seguire modelli sbagliati, la fede, la speranza e la carità. E uno di questi modelli sbagliati è privatizzare la salvezza. È vero, Gesù ci ha salvato tutti, ma non in genere, tutti, ma ogni uno, con nome e cognome. E questa è la salvezza personale, è vero, io sono salvato, il Signore mi ha guardato, ha dato la sua vita per me, ha aperto questa porta, questa via nuova, per me. E ognuno di noi può dire per me. Ma c'è il pericolo di dimenticare che Lui ci ha salvato singolarmente, ma in un popolo. Sempre il Signore salva nel popolo. Dal momento che chiama Abramo, gli promette fare un popolo. Il Signore ci salva in un popolo. Per questo l'autore di questa lettera ci dice, prestiamo attenzione gli uni agli altri. Non c'è una salvezza soltanto per me. Se io capisco la salvezza così, sbaglio. Sbaglio strada. La privatizzazione della salvezza è una strada sbagliata. E quando io sono in una parrocchia, in una comunità, qualsiasi fosse, io sono lì. Io posso privatizzare la salvezza e essere lì un po' socialmente soltanto. Ma per non privatizzarla, devo chiedermi me stesso se io parlo, comunico la fede, parlo, comunico la speranza, parlo e faccio, comunico la carità. Se in una comunità non si parla, non si dà animo uno all'altro in queste tre virtù, i componenti di quella comunità hanno privatizzato la fede. Ognuno cerca la sua propria salvezza. No, la salvezza di tutti. La salvezza del popolo. E Gesù ci ha salvato ognuno, ma in un popolo, in una chiesa. La salvezza del popolo.